Salve, sono Raffaella Veroli e ci troviamo all'interno dei vigneti della società agricola Eleva. L'azienda si trova nel cuore della Valpolicella Classico, tra il Lago di Garda e i Monti Lessini, a 300 metri sul livello del mare, sopra il comune di Sant'Ambrogio. Ha una estensione di 6 ettari, 3 sono vitati e un ettaro è coltivato a Oliveto. La via, la strada che porta alla tenuta Eleva, prende il nome di Conca d'Oro, perché se osservata dall'alto, quest'area sembra effettivamente una conca, una culla. Grazie a questa conformazione geologica e geografica, l'azienda gode di un microclima favorevole allo sviluppo sia della vite che degli olivi e in generale a tutta quella vegetazione che ricorda la macchia mediterranea. Infatti è possibile trovare all'interno della tenuta cipressi, pini e le tipiche piante spontanee della macchia mediterranea. Il suolo è un suolo di tipo calcareo marnoso, dove c'è poca terra. In alcuni punti infatti è facile vedere anche gli affioramenti rocciosi. Questa caratteristica dei suoli sicuramente al vino conferisce una forte presenza di sali minerali e quindi una sensazione di salinità. Il sesto d'impianto del vigneto prevede 4200 viti per ettaro allevati a guillot. Abbiamo la fortuna di avere all'interno dell'azienda un pozzo che pesca a 295 metri. Questo garantisce all'azienda di poter vivere in maniera più serena le stagioni siccitose, perché abbiamo la possibilità di intervenire con l'acqua del pozzo nell'irrigazione di soccorso. L'azienda produce tre vini, che sono l'Amarone, il Valpolicella Classico e il Recioto. Quindi, secondo il disciplinare, in azienda ci sono le varietà di Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. Oltre a questi vitigni noi abbiamo introdotto anche delle altre varietà, come il Merlot, il Teroldego, la Croatina e l'Oseleta. Abbiamo introdotto questi vitigni perché abbiamo pensato che fosse importante ampliare la gamma delle sensazioni. Questa azienda si trova su una collina, una collina molto scoscesa, per cui per poter coltivare la vite e gli olivi i tre ettari di vigneto sono divisi in 14 terrazze. Ogni terrazza è sorretta da muretti a secco e si affaccia a picco sulla Val Dadige. Queste 14 terrazze rendono la nostra tenuta molto interessante perché ogni terrazza costituisce un microclima a sé stante. Infatti ogni terrazza porta un vitigno differente, ha un'esposizione differente dall'altra. Gli stessi suoli cambiano anche semplicemente per la percentuale di terreno che trovi sopra queste terrazze. Quindi ogni terrazza rappresenta per noi un piccolo crew. L'assemblaggio di questi appezzamenti ci permettono di creare ogni anno tre grandi crew.